Andiamo su Rete e Internet. Scegliamo quindi Centro connessioni di rete e condivisioni. In questo caso la connessione ci è fornita da un router Wi-Fi, quindi facciamo doppio clic e andiamo sui dettagli. I dati che dobbiamo copiare sono Gateway, DNS e Indirizzo IP. Andiamo sul software delle telecamere, ricerchiamo la telecamera IP e non appena viene trovata, selezioniamola e aggiungiamola con relativo pulsante. Se visualizziamo la telecamera abbiamo terminato, se invece non la visualizziamo dobbiamo andare di nuovo su dispositivi. Facciamo doppio clic sulla telecamera precedentemente aggiunta, andiamo su Imposta e settiamo i parametri di rete con i dati precedentemente rilevati. Confermiamo con OK. Lo stato della telecamera non farà più errore, diventerà verde e l'immagine verrà visualizzata. Grazie. 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 Grazie.